Cari amici, benvenuti sul mio canale poetico Savinottesse. Oggi ho creato una nuova poesia dal titolo Autentica Tristezza. Spero che dopo la condividerete su tutti i contatti Whatsapp e se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanellina per le notifiche. Riflessioni sulla poesia. Ho creato questa poesia perché a volte i ricordi di una persona cara e stinta riaffiorano la mente e ci fanno pensare al passato e ai momenti belli con i cari nonni. Ricordare così tutte le domeniche passate insieme alle giostre, ai giardini pubblici, il Natale dove con tutta la famiglia ci si riuniva e si festeggiava con vera e euforia. L'emozione che ti dona il ricordo di un nonno è qualcosa di grandioso e mentre a noi rimane una lapide ed una foto da venerare, il ricordo bellissimo ci porta a dire grazie nonno per ciò che ci hai donato e per i bei momenti vissuti insieme. Ora vi leggo la poesia. Autentica tristezza. Ogni volta ricordo con gioia i momenti passati insieme, dove la bellezza e l'euforia si sposavano tutti insieme. Ricordi veri e cari aleggiano nella mia mente candida e la gioia passata invocano come emozione solida ed unica. Tempo tiranno allontana da noi tanti affetti. Oh caro nonno, la tua memoria sempre nei miei dolci ricordi. Autentica tristezza riaffiora nella mente con emozione mentre una colomba vola nel cielo candido con amore. Grazie.